Il sovrano inaugura la mostra dei pensionati dell'Accademia Americana al Gianicolo, ricevuto dal direttore dell'Accademia e dal consigliere dell'Ambasciata degli Stati Uniti in assenza dell'Ambasciatore da Roma. Il re imperatore ha visitato le varie sale dove sono esposti i pregevoli lavori e gradito l'omaggio della nuova guida delle ville d'Italia pubblicata sotto gli auspici dell'Accademia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS